Pericoloso, su un paio inattiva, li vediamo adesso. E' un gran colpo di testa, c'era anche Romelu Lukaku, ad un passo da lì. E quindi davvero per poco Romelu Lukaku non ha trovato subito, immediatamente, il primo gol nella sua nuova vita a Nerazzurro. Ovviamente non contiamo l'amichevole in famiglia l'allenamento.